Eccoci qui, un saluto a tutti, ben ritrovati come state, siete lavorativi in questi giorni, siete in vacanza, ditemi voi, mi raccomando commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like, se amate il Milan, chi non lascia un like a questo video, capirete insieme perché ti fa la seconda squadra di Milano e iscrivetevi da questa parte. In tanti, mi avete segnalato l'articolo sugli 807 milioni di debiti dell'Inter, insomma, leggo, so, c'è poco da aggiungere, poi vedi che prendono giocatori interessanti, non so davvero a che gioco sta giocando Zhang, il tutto è molto strano, insomma. Adesso prendono Bucunanan, stanno puntando Taremi, hanno probabilmente chiuso Zielinski a parametro zero, non lo so, non lo so. Io se ho la casa che perde non vado ad aggiungere cose, ecco, però, insomma, vediamo un po' quali saranno le evoluzioni su questo fronte, ma pensiamo al Milan che è il nostro pane quotidiano. Allora, innanzitutto, avete visto un po' nella copertina, parliamo della questione araba, che è la speranza che possa essere, insomma, la nostra isola felice, diciamo così, il nostro bel pensiero che ci possa far svoltare, perché ce lo meritiamo, a parte l'anno dello scudetto, insomma, negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare cambi di proprietà, non sempre fortunati, cambi di allenatore, giocatori a volte mediocri, tante situazioni. E vedo che in questo momento, vuoi che c'è la vacanza, un periodo di riflessione, il sentimento collettivo, soprattutto per risultati, è di grande sfiducia, soprattutto nei confronti dell'allenatore, ma non rinuovo questo sentimento, devo dire anche di dirigenza e proprietà. Secondo me, ecco, hanno perso molto loro dirigenza e proprietà negli ultimi settimani hanno perso consensi, credito e anche considerazione da parte di Chiamina nel cuore. In questo senso, guardando poi ai vari aspetti, sta facendo un po' discutere la classifica del Tolosa, Club di Redbird, che aveva fatto bene, ma adesso sta calando parecchio. Il Ligan, pensate che il Tolosa è terzultimo, oggi sarebbe retrocesso, con una classifica di... con in totale, fatemi vedere le voci, vittorio a tutti i punti, e quello qua i punti, sono 14 punti sopra il Clermont e l'Orient, che sono penultimo, ultimo e penultimo rispettivamente. Quindi il progetto, tanto sbandierato da quelle parti dell'algoritmo, perché lì, sì, hanno detto noi usiamo molto l'algoritmo, non sta funzionando, ed è chiaro che poi, in questo momento guardi un po' tutto, e vedi che da quelle parti lì, il progetto non sta andando un granché bene, e quindi c'è il dubbio che, ma non è che questi sono arrivati, promettono, ambizione, puntiamo in alto, poi vedi che il progetto, stringi stringi, poi è destinato a cadere, a crollare, cioè succederà lo stesso con il Milan, obiettivamente il momento attuale è molto, molto, molto negativo. E quindi ti interroghi un po' su tutto. Sono in una chat rossonera, con tantissimi cari rossoneri, e ci sono tanti divisi, c'è chi vide già l'anno prossimo in maniera molto negativa, perché dici, questa proprietà partirà con, non i favori del popolo, ma la critica. Ci sarà una nuova dirigenza, giocatori da rigenerare, dal punto di vista atletico e non solo, e quindi, diciamo così, tagliamo la testa al toro, la speranza di noi tutti, è che questa svolta araba, prima o poi, davvero si verifichi, più prima che poi, e che questo si possa verificare, così come nelle volontà di Paolo Maldini, prima, in modo da arrivare all'estate, essere già operativi. Come tempistica, diciamo, sarebbe molto buona in aprile-maggio, poi, più vai avanti, più magari ti devi accontentare degli scarti o di seconde scelte. Un anno, abbiamo fatto questo tipo di mercato, arrivando un po' agli ultimi 15 giorni, e commettendo degli errori, ve lo ricordate, evidenti. Quindi, era l'anno del passaggio, tra l'altro, credo proprio a Elliot, con Leonardo che invece è il mercato in un paio di settimane con diversi errori. Leonardo che è sempre un po' qui, in zona Milano, in zona, diciamo, collante tra l'Arabia, Paolo Maldini e il Milan con Jerry Cardinale. Ora veniamo alle ultimissime, molto interessanti, così capite anche un po' la copertina che non ho ancora realizzato, ma ho decisamente in mente. In tutto questo, però, voglio dirvi una cosa, che, per quanto riguarda la percentuale del sondaggio che avevo già commentato nel video precedente, abbiamo chiesto sulla community chi volreste in panchina al prossimo anno, sale, abbiamo superato i 4.000 voti, siamo quasi a 5.000, sale la percentuale di Conte, in questo momento al 40%, quindi siamo quasi a un Milanista su 2 che vorrebbe Antonio Conte. In seconda posizione De Zervi, 29%, quindi un Milanista su 3. In quarta posizione Tiago Motta, 25%, quindi un Milanista su 4. In quinta posizione Palladino, 2%, quindi un Milanista su 50, e poi c'è 4% alla voce altro. Personalmente, io sono Conte, leggermente sotto Tiago Motta, molto più sotto De Zervi, poi ovviamente abbiamo 103.000 quasi teste diverse, ed è giusto che ognuno abbia le proprie preferenze. Nessuno si scocci se io la penso diversamente o se qualcun altro la pensa diversamente. Lo dico perché ogni tanto qualcuno trascende quando qualcuno non la pensa come lui, o pensa di avere la verità in tasca. La verità in tasca non ce l'ha nessuno, ognuno ha delle preferenze. Le mie preferenze sono Conte, un po' più sotto De Zervi, un po' più sotto Tiago Motta, un po' più sotto De Zervi, un po' più sotto ancora Palladino e altro, perché non so specificarlo in quel caso. Veniamo alle novità. Allora, prendo innanzitutto un articolo da Repubblica, quindi siamo al 40% conto, il popolo milanista di Milanello che rappresenta, devo dire, molto bene il tutto. Allora, prego, prendo innanzitutto un articolo del collega Curro. Qualcuno ieri mi ha scritto, ma perché non ne parla nessuno dell'Arabia, ne parli solo tu? No, ne parlo io, ne parla il collega Curro molto vicino a Paolo Maldini e ne parlano anche in Arabia, quindi gli altri evidentemente non hanno le nostre notizie o sono all'oscuro, un po' più cauti, non lo so. Io comunque quello che vi ho raccontato su Maldini e quell'incontro è il discorso Leonardo, la volontà di prendersi in Milano è certificato al 101%. Qualcuno mi scrive, speriamo che quello che dici sia vero. No, è vero, ve lo posso garantire su quello che ho di più caro. È vero, che ci riescano lo vedremo, però ci sono altri elementi. Allora, siamo sull'articolo di Repubblica di oggi di Enrico Curro, ripeto, bravissimo, preparatissimo, sempre molto informato sulle questioni anche societarie, oltre che di campo, oltre ad essere stato colui che ha intervistato Paolo Maldini un mese, un mese e mezzo fa ormai. Allora, lui scrive, Il club, licenziato di Maldini e Massara, sostituiti della di Furlani e dal capo degli osservatori Moncada, ha ruolato Ibraimovic, consulente nazionista di maggioranza gericardinale della dirigenza. Ma Ibra, dopo la trasferta di Salerno, ha diffuso il suo video su Instagram di una rovesciata in spiaggia. Attende un ruolo operativo sul mercato, tra parentesi, per convincere Conte, ingaggio da 6 milioni in su, ad arrivare subito, punto di domanda. Nessuno decide davvero in questo strano limbo che negli ambienti della finanza viene attribuito a un nuovo imminente riassetto societario, quindi parlano di imminente riassetto societario, con l'uscita dal fondo Elliot, che nel 2018 raccolse il club dal debitore inadempiente Yongon Lee, successore a corto di soldi di Silvio Berlusconi, e che nell'agosto 22 ha ceduto la maggioranza delle quote Redbird di Cardinale, previo previsto da 550 milioni sugli 1,2 miliardi dell'operazione. Ora gli investitori arabi sarebbero pronti a pagare a Elliot il presito concesso Redbird, e questo l'abbiamo detto, e poi a rilevare le quote restanti, ufficialmente controllate da Cardinale, ufficialmente scrive, il quale Cardinale avrebbe incassato l'estate scorsa, e qui veniamo al fattore di svolta. Secondo il collega Corrò, e leggo testualmente, Cardinale ha incassato la scorsa estate il dietrofront del suo principale investitore annunciato nell'affare Milan, Kaiser Permanente, che è un nome vero, sembra un nome Kaiser Permanente da film di Aldo Giovanni e Giacomo, però è un nome vero ed è anche molto serio, è il colosso della sanità privata americana, che aveva ipotizzato un soft continent, un impegno iniziale da 200 milioni di euro, quindi Kaiser Permanente aveva detto noi mettiamo 200 milioni nel Milan, salvo poi, qualche mese fa dire, diciamo non rispettare il patto, la ricerca del socio arabo si traduce nella difficoltà di assumere impegni a lunga scadenza, da Ibra dirigente al nuovo allenatore, che potrebbero essere disconosciuti dal futuro eventuale proprietario, quindi siccome non c'erano più quei 200 milioni che erano stati garantiti, è venuto meno il colosso, li cerchiamo non in America, dove vi diceva Martinelli già a settembre, Cardinale stava facendo fatica a recuperare denaro, questa è stata un'antiprima di Milanello, che come vedete trova conferma anche mesi dopo, così dunque andiamo a rastrellare il mercato arabo con contatti da quelle parti confermati, l'idea però che entrino e poi diventino anche proprietari della maggioranza, quindi tra le righe secondo me può essere una lettura il fatto che non si cambi tecnico, perché poi ne metto uno che, oppure Ibra perché non è entrato nella Galassia Milan ma in Redbird, perché Ibra sa che se c'è un cambio di proprietà lui rimarrebbe a piedi, quindi a livello di immagine iniziare un'avventura nel Milan ed essere poi cacciato dopo qualche mese non sarebbe un bel biglietto da visita per la sua avventura manageriale, da qui il dialogo, la decisione poi di finire nella Galassia Redbird, quindi non sarebbe mai a quel punto cacciato ma continuerebbe a lavorare in Redbird, spiegazione anche alla trattativa lunga e al fatto che Ibrahimović non sia entrato nell'organigramma a Milan, pur lavorando prevalentemente nel Milan. Questo dunque è l'aspetto, il fatto che si è confermato questo colosso e non è stata smentita questa notizia, cioè Kaiser Permanente, fa ridere eh, però il nome è questo, Kaiser Permanente che è un colosso di USA del settore medico, un consorzio di cure con sede a Oakland, in California, in America possiede 39 ospedali e vanta un numero enorme di dipendenti, il fatturato come scrive Calcio Finanza ha raggiunto una clamorosa cifra di 93 miliardi di dollari, il consorzio a vita lunghissima è stato infatti fondato nel 45 da due personaggi molto importanti, l'industriale Henry Kier, da cui presumibilmente nasce il nome, e dal medico Garfield. Quindi, secondo me, fa riflettere il fatto che comunque un colosso del genere si sia tirato indietro, ritenendo evidentemente l'investimento sul Milan non funzionale, non strategico e non proficuo. Il fatto stesso che Cardinale non sia riuscito a raccogliere tutti i denari che pensava in America e che dava quasi per scontato, fa capire che da quelle parti il progetto di Redbird sul Milan non convince. Ripeto, il dietrofront, non smentito di questo Kaiser Permanente deve deve far far riflettere. Quindi, se il Milan passerà davvero, almeno inizialmente con la minoranza e poi per la maggioranza in mani arabe, lo dovremo, secondo la ricostruzione del collega Curro, ripeto, molto preparato e affidabile, al dietrofront di Kaiser Permanente. va da sé, magari sarà stato il personaggio più decisivo per una nostra rinascita. Pensate, Kaiser Permanente, comunque non il personaggio, ma la società. In tutto questo, quindi, capiamo magari perché non si cambia a lungo termine, si sta aspettando, speriamo, con il mondo arabo che è caldissimo. Tra l'altro, vado subito a recuperare il tweet che mi ha scritto un collega arabo che mi ha scritto dov'è, 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 vado in messaggi. Eccolo qui, ieri mi scriveva, almeno 21 ore fa, mi scriveva, eccolo qui, voci di corridoi dicono che ieri a New York ci sia stato un incontro con un fondo arabo per acquistare il Milan, puoi confermare mia risposta, non ho news purtroppo, quindi, da quelle parti sono molto caldi su questa vicenda, che va affrontata con entusiasmo, ma anche prudenza e speranza, soprattutto, perché nel momento in cui c'è tutto nero questo raggio di sole. Ripeto, l'articolo di Repubblica comunque non è stato smentito e il fatto che Cardinale sia un po' in difficoltà lo si apprende da più parti. Quindi, vediamo una spiegazione in più alla ricerca di fondi in Arabia e al possibile ingresso che sarebbe clamoroso per la nostra vita. In quel caso, ecco, un grazie a Kaiser permanente. Non è un nome di fantasia, è tutto vero. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi. Ah, proseguo, chiudo l'articolo, perché secondo poi si parlava di Conte, secondo però poi il collega Curro, viene scritto nel finale in Arabia Saudita un nome molto in voga ed è Zerbi. Il suo Brighton gli sta procurando estimatori in Premier League ma anche tra chi si sta facendo più di un pensierino al Milan. Quindi, non so se magari da zona Maldini ha ricevuto questa imbeccata sul fatto che il profilo di De Zerbi sia molto apprezzato oltre a quello di Conte. Scatenatevi, un abbraccio! Grazie! Grazie!